Il GIP del Tribunale di Arezzo Anna Maria Loprete ha dato il suo via libera in merito al sequestro di una parte della liquidazione percepita da Luca Bronchi, l'ex direttore generale della vecchia banca Etruria. La buona uscita per Bronchi era stata votata dall'ultimo CDA, tranne Giovanni Grazzini, che si era astenuto ed era stata quantificata in 1,2 milioni di euro l'ordi. Il GIP ha fermato un decreto che mette i sigilli a 450 mila euro dei 700 mila netti. Un sequestro probatorio di una parte della liquidazione perché il GIP ritiene che per contratto di lavoro Bronchi avesse diritto a riscuotere l'altra parte della cifra. Su questa infatti non è stato disposto alcun provvedimento. Dei 450 mila euro sui quali è stato disposto il sequestro, 100 mila sono già stati recuperati dalla Guardia di Finanza, incaricata dell'esecuzione del provvedimento. Sul fronte dell'ipotetico reato di bancarotta fraudolenta, questa è una svolta importante per il pool DPM coordinati dal procuratore capo Roberto Rossi, perché l'ipotesi di distrazione patrimoniale avanzata appunto dall'accusa trova adesso l'avallo di un giudice terzo. Il filone di indagine che riguarda invece l'ipotetico reato di truffa vede oggi il deposito di altri tre avvisi di chiusura a indagini, a carico sempre di direttori o comunque figure dirigenti a livello di filiale. Il prossimo 13 di aprile è invece in calendario l'udienza rinviata lo scorso 10 marzo per l'ipotesi di reato di ostacolo alla vigilanza. Il GUP dovrà stabilire se rinviare a giudizio l'ex presidente dell'Istituto Giuseppe Fornasari, il dirigente Davide Canestri e l'ex direttore generale Luca Bronchi, rispettivamente difesi dagli avvocati Antonio Davirro, Luca Fanfani e Antonio Bonacci.